Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite capitolo 5 stagione 1 26 gennaio 2024 quindi ormai siamo a più della metà di questo capitolo e stagione e come ogni giorno su questo canale arriva una mappa creativa ma prima di cominciare con il video di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale attivate la campanellina condividere il video con i vostri amici se volete supportarmi codice creatore il Jan YT tutto traccato da rinnovare ogni 14 giorni dunque il codice della mappa di oggi è 858483795621pro1v1newgunsandgear mappa che abbiamo già visto nelle scorse settimane ma che è stata modificata quindi andremo a vedere tutti i passaggi per guadagnare tantissimi punti XP che ci serviranno per livellare questo pass battaglia dunque amici prima di cominciare vi ricordo di verificare sempre la versione questa è la numero 39 perché se non è la stessa versione sapete anche voi che poi dopo non corrispondono tutti i pulsanti i bottoni da schiacciare poi mi scrivete nei commenti che la mappa non funziona una volta startata la mappa in modalità partita privata dobbiamo scendere giù nell'arena e una volta arrivati al centro dobbiamo andare esattamente dove c'è questa struttura con il counter da quasi un'ora qui sulla destra facciamo tre basi 1, 2, 3 e poi qui facciamo 10 rampe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 poi facciamo un base a sinistra altre 1, 2, 3 rampe un altro base e qui in questo modo qui al centro facciamo una qualsiasi emote quella che è più preferite una volta fatto ciò scendiamo giù ritorniamo all'inizio della struttura e qui attiviamo il timer dei 15 minuti eccolo qui unlock the key e ora dobbiamo attendere solo lo scadere del timer intanto se volete potete fare le task che trovate in alto a sinistra tipo distance travel on foot 1000 metri quindi si fa abbastanza easy una volta scaduto il timer dobbiamo tornare nel back to spawn prima recuperiamo un rampino perché questo ha solo una carica eccolo qui e una volta recuperato il rampino possiamo andare nel starting point quindi prendiamo il portale back to spawn e una volta arrivati qui dobbiamo andare qui dove c'è FFA Slur Pit e qua in basso alla sua sinistra abbiamo il get key button recuperiamo 10 chiavi che ci serviranno per aprire il cavo e le secret room quindi una volta recuperate scendiamo giù nell'arena e andiamo subito ad aprire il nostro cavo con una delle chiavi appena prese eccolo qui clicchiamo use the key entriamo dentro e qui in basso abbiamo il primo tasto che ci darà la possibilità di guadagnare .xp in modo AFK una volta cliccato usciamo e andiamo a sinistra qui dobbiamo fare 9 basi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 in questo modo e poi 3 a sinistra 1, 2, 3 e qui avremo la secret room button da cliccare una volta cliccato dobbiamo salire sopra il palazzo quindi prendiamo le scale che troviamo qui saliamo sopra primo piano secondo piano terzo piano e quarto e qui dove c'è lo schedario dietro la scrivania qui c'è il primo tasto di questa secret room che ci farà guadagnare tantissimi punti xp una volta cliccato scendiamo giù vado a recuperare un bel a R scendiamo giù di nuovo nell'arena rientriamo ancora nella stessa room quindi torniamo nella secret room dove siamo appena stati quindi secondo passaggio clicchiamo sul tasto dove sei? eccolo qui secret room questa volta però non andremo al quarto piano ma andremo qui dove c'è la porta ecco qua qui ci sono i bancali noi dobbiamo attraversare questa porta e qua sulla pila di bancali che troviamo qui c'è il nostro secondo tasto di questa secret room quindi in questa posizione troveremo il tasto secret button e una volta cliccato anche qui ci darà altri punti xp fatto ciò scendiamo giù di nuovo nell'arena questa volta andiamo dove c'è questo è il bouncer button 1,2,3,4,5,6,7 rampe così vedete sinistra abbiamo la cabina e poi verso il centro 1,2,3,4,5,6 7 basi e qui avremo il tasto secret room una volta cliccato entrati in questa secret room dobbiamo salire nella struttura che abbiamo qua quindi entriamo dentro qua a destra nella porta principale saliamo le scale quindi primo piano secondo piano scala verde di sinistra saliamo ancora saliamo ancora e qui sul tavolo dove c'è l'arco qua in mattoni abbiamo il nostro primo pulsante primo button da cliccare in questa secret room e anche qui altri punti xp quindi scendiamo giù e rientriamo di nuovo in questa room quindi risaliamo 6 sulla rampa da 7 e 7 basi rientriamo dentro cosa sta facendo la guardia là in fondo a farsi un giro rientriamo nella secret room ma questa volta andremo al terzo piano se non mi ricordo male quindi vediamo saliamo la scala primo piano secondo e sì esatto al terzo piano qui sulla scala di sinistra abbiamo la scatola con il tasto che si trova in questa posizione e una volta cliccato guadagneremo altri punti esperienza ultimo passaggio andiamo a scoprire dove si trova la bouncer room e si trova esattamente qui dietro quindi qui abbiamo costruito la rampa da 7 e qui c'è il rampino l'arpione esattamente in questa posizione abbiamo la nostra bouncer room o fk room chiamatela come volete qui capirete il vostro cap run di questa mappa creativa quindi fatemi sapere cosa ne pensate io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto vi ringrazio per il supporto che mi date e vi ricordo il contest dei 10.000 iscritti quindi fate iscrivere anche i vostri amici bambini amici parenti genitori zii e quant'altro perché una volta arrivate 10.000 iscritti faremo una live e all'interno troverete i codici per riscattare le schede da 1000 VBAC quindi mi raccomando io vi auguro una buona giornata e un buon game a tutti dal sottoscritto ciao